Il suo assistito mi dice qualcosa? No, l'assistito non può parlare perché è in regime di arresti domiciliari, non può parlare. Non parla e non può parlare Dimitri Traikov all'uscita del Tribunale di Pordenone dove il giudice in Camera di Consiglio appena letto la sentenza che lo condanna a 7 anni di reclusione per la morte di Sara Rizzotto, 26 anni, e Jessica Fragasso, 20, le cugine travolte uccise il 30 gennaio scorso sulla 28, 6 anni per omicidio stradale, 1 per l'omissione di soccorso. Questo è il verdetto arrivato poco prima delle 2 del pomeriggio. Una sentenza che in termini giudici ci soddisfa perché ha accolto alcune delle nostre istanze difensive e adesso verificheremo se proporre un appello per l'entità della pena. Ha detto qualcosa al suo assistito? Non ha detto nulla, adesso però ci riserviamo il tempo di commentarla insieme al nostro assistito. Quella sera di fine gennaio Sara e Jessica si trovavano in auto con le figliolette di Sara di 9 mesi e 2 anni. Stavano rientrando da una gita al mare quando il SUV di Traikov, 61 anni, imprenditore bulgaro con precedenti, l'esperona, la carambola è micidiale. Per le due cugine non c'è nulla da fare, salve per miracolo invece le piccole che viaggiavano sui seggiolini. Traikov si dà alla fuga, viene trovato poco dopo dagli uomini della questura. Due perizie successive hanno stabilito che stava viaggiando a circa 180 km orari e che aveva assunto alcol, circostanza quest'ultima che non sarebbe stata considerata dal giudice. La lettura è stata molto veloce, pare che sia stata esclusa l'aggravante dell'ebrezza. Però, ripeto, è stata una lettura veramente veloce, però dobbiamo aver intuito che sia stata esclusa questa aggravante. In attesa delle motivazioni e di eventuali contromosse da entrambe le parti, restano le provvisionali 35.000 euro a genitore, 20.000 per i nonni. La partita risarcitoria procederà su altri tavoli. Una pronuncia che è stata accolta tra rabbia e rassegnazione. Sconcertato Luca Rizzotto, padre di Sara, mentre Alen, papà di Jessica, accanto alla mamma Barbara, un po' se lo aspettava, più che la sentenza dice è la legge a essere ingiusta. La sentenza, nì, però queste sono le leggi, purtroppo se non vengono cambiate non si può fare niente. Un'altra cosa, non può essere valutata la vita di una ragazza 5 anni, non può essere valutata così. Però non posso fare niente, non si può fare nient'altro, accettare e basta. Che almeno si faccia un po' di anni in galera, che si faccia un po' di anni dentro una stanza e guarda il muro e, come si dice, pensi a quello che ha fatto e basta. Almeno questo, almeno questo ce lo devono, cioè non è che pretendiamo, non pretendavamo l'ergastro, non pretendavamo 30 anni, 20 anni. La giustizia è giusta, ma almeno si faccia un po' di anni in galera dentro una stanza. Grazie.